Sarebbero 5 le persone iscritte nel registro degli indagati per un'inchiesta sulla gestione della discarica di podere rota nel comune di Terranova Bracciolini. La procura di Firenze contesta i reati di inquinamento e gestione abusiva di rifiuti. Tra i 5 indagati ci sono i dirigenti delle società che gestiscono e operano dentro la discarica, quindi XAI e TB, e due rappresentanti delle istituzioni, il sindaco di Terranova Bracciolini e la dirigente del settore bonifiche della regione toscana. Il caso della discarica era già all'attenzione degli enti pubblici di Arpat per il progetto di ampliamento che era stato presentato. Lo scorso febbraio, a seguito delle indagini di Arpat, fu XAI direttamente a stoppare la procedura di ampliamento. La società aveva scritto in una nota all'epoca, ritiene di aver svolto correttamente nel rispetto delle disposizioni vigenti la propria attività, tuttavia nell'ambito di una collaborazione con tutti gli enti coinvolti abbiamo preferito richiedere una sospensione. Il sindaco di Terranova Bracciolini intanto commenta la notizia. Come avrete letto, scrive, risulto nel registro degli indagati, non sono ancora a conoscenza dei motivi dell'iscrizione, perché fino a quando non saranno chiuse le indagini non è possibile saperlo. Chi mi conosce sa l'impegno che metto nel servizio che svolgo e la passione che nutro per la mia città. Attendo con fiducia il lavoro della magistratura e continuo a lavorare per dare risposte ai bisogni di Terranova.